She-Hulk Episodio 1, la nuova serie tv Disney+, commentiamola insieme. Wabalabadabab e bentornati, sono Mamma Mazzo e bentornati nella rubrica serie tv e nella rubrica Marvel, un connubio che presumo non ci lascerà tanto presto. Oggi parlo con voi di questa nuova serie tv annunciata da tempo da Disney+, da tutte i bistrattata per quanto riguarda la CGI, ma attesa comunque da alcuni per i suoi toni comedi e scansonati. Io sono tra queste persone proprio perché sono un vecchio da questo punto di vista e sono un grande fan della serie tv Halley McBeal, una serie tv di tardo anni 90 ambientata in uno studio legale che per alcune caratteristiche aveva anche preceduto Scrubs, che poi ha esaltato queste caratteristiche peculiari della serie. In questa serie io mi aspetto un tono altrettanto commedia, altrettanto scherzoso con l'aggiunta della rottura della quarta parete che è un tratto tipico del personaggio di She-Hulk anche nei fumetti. Prima di cominciare, se ancora non l'avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace o un non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri, che vi frega di condividere il video con tutte le persone del mondo, altrimenti qualcuno si può arrabbiare e diventare verde, di commentare qui sotto con quello che ve ne è parso di questo primo episodio, di questo video, vi ricordo anche di seguirmi sugli altri miei social, tra cui Instagram e Twitch, ma per l'occasione vi ricordo anche che ho TikTok e che ho aperto una piccola rubrica per questa serie tv, cioè di fare una piccola recensione di un minuto, andate a vedere il video, seguitelo, fate tutte quelle cose che fanno i giovani su TikTok, non ho idea di come funzioni, comunque andate a vedere anche quel video. Dove trovate tutti questi link? Qua sotto, in descrizione, aprite sempre la descrizione, mamma mia, apritela. La prima scena si apre con Jennifer Walters, che sta provando una ringa finale per un caso che sta seguendo. Poi non so se questo caso sarà comunque il fulcro della serie tv, se verrà approfondito o se è solo un espediente narrativo per mostrarci le capacità di Jennifer Walters. Capacità che sono davvero formidabili dal mio punto di vista, da quel poco che sto seguendo pochissime serie di avvocatura, mi sembra una brava avvocatessa. E comunque è quello che vogliono dare come messaggio. E subito dopo, come messaggio, vediamo che mentre lei ha finito la prova della ringa finale, c'è subito un uomo, subito un avvocato, che vorrebbe fare la ringa al suo posto. E mentre sta parlando le dice di sorridere. Due messaggi molto precisi sulla condizione in cui si trova Jennifer Walters e sulla condizione in cui si trovano sicuramente tantissime altre donne in carriera. Abbiamo visto l'uomo, in quanto uomo, che vuole spiegare appunto, che dice a Jennifer Walters di sorridere, mentre fa una ringa serissima solo perché è una donna ed è troppo seria. Un simpatico rimando al commento che avevano fatto sul poster di Cartan Marvel a suo tempo, quando uscì. Mentre il fatto che voglia fare la ringa al suo posto, non so se è sempre mansplaining, ma è qualcosa della serie. Non farlo tu perché sei una donna, ci penso io, perché sennò mandi tutto a puttane. Ecco, questi due messaggi subito piantati lì così, hanno subito gettato le basi di quello che vedremo in questo episodio. Poi non so se lo vedremo anche in tutta la serie e la stagione. Se fosse così per me sarebbe un valore aggiunto. So che qualcuno romperà le balle perché subito femminismo anche in una serie comedy. Non rompete i coglioni. È bello, è inserito perfettamente e va bene così. Vediamo che in questa scena lei è già She-Hulk, è già Hulkosa, ma fortunatamente vediamo le sue origini. Fortunatamente in un flashback che dura quasi tutto l'episodio, vediamo cosa le è successo. Sono felice di vedere che hanno eliminato la cosa dei fumetti, cioè la trasfusione di sangue fatta da Hulk, che non ha assolutamente senso perché ci sono mille altri modi, mille altre persone che potrebbero donare sangue a Jennifer Walters per salvarla. Semplicemente Jennifer e Bruce stanno guidando insieme in auto e fanno un incidente. Un incidente tra l'altro con un'astronave saccariana. Magari è un dettaglio inutile, ma io lo terrei lì, lo accantonerei per il futuro dell'MCU. Fanno un incidente con questa astronave, vanno fuori strada e semplicemente sanguinano entrambi. Tra l'altro è Jennifer che salva Bruce. e siccome entrambi stanno sanguinando, il sangue contaminato dai raggi gamma di Bruce Banner va a toccare la ferita aperta di Jennifer Walters che si trasforma pure lei in Hulk, si trasforma in She-Hulk. Dopo questo fattaccio, dopo un paio di trasformazioni dissennate, viene appunto aiutata da Bruce a gestire il controllo della rabbia e si scopre, con un po' di disappunto del cugino, che quello che lui ha impiegato anni per raggiungere, ha impiegato 15 anni per raggiungere un livello di Hulkosità in cui mantiene anche il suo stato cosciente, Jennifer lo ha in modo innato. O, come spiega Jennifer stessa, forse lei riesce a mantenere un livello di coscienza anche nella sua forma Hulk, proprio perché in quanto donna è stata costretta, abituata tutta la vita a gestire le emozioni in modo diverso da un uomo. Vuoi anche il fatto ormonale, ma soprattutto l'accento va puntato sul fatto che lei tutta la vita è stata costretta a gestire la propria rabbia quando ogni qualvolta che viene molestata, ogni qualvolta che viene catcollata, ogni qualvolta che viene mansplainata, magari tutti questi termini poi, se non li conoscete, vi iscrivete al gruppo Telegram e ne parliamo insieme, ve li spiego. Perché sono un uomo e ve li spiego soprattutto. E questa gestione della rabbia la aiuta a, diciamo, avere il perfetto controllo della sua trasformazione. Perché se tutte le volte che l'avessero fatta arrabbiare in passato avrebbe sbroccato, le avrebbero pure dato dell'isterica. E quindi, ecco, questa un po' è la situazione che vive Jennifer Walters. È la situazione in cui vivono tutte le donne? No. È la situazione in cui vivono la maggior parte delle donne? Purtroppo credo di sì. Non ne ho i dati statistici alla mano, ma così a occhio. Purtroppo penso di sì. Un'aggiunta, diciamo, dal sapore femminista a questa serie Comedy dalle tinte Helly McBeal. È un valore sicuramente aggiunto che già ha alzato l'asticella delle mie aspettative su questa serie. Quindi sono molto molto felice che si toccherà anche questo argomento. Perché? Perché se si fosse fatto qualche anno fa sarebbe stato sì bello, ma sarebbe stato fine a se stesso. In questi anni siamo in una condizione opposta, siamo in una condizione dove parlarne può rendere la serie davvero un attimino più alta rispetto a quello che si prefigge. Sicuramente può far scomodare, storcere il naso a molte persone che non vogliono sentir parlare di questo argomento, ma proprio per questo potrebbe guadagnare in qualità anche questa serie. Perché una serie che fa parlare di sé comunque è una serie più bella di una serie che invece passa in sordina, passa in secondo piano. Parliamo un secondino degli effetti speciali. Non sono così orribili. C'è una scena dove Hulk sfoglia un quaderno che è raccapricciante, davvero pessima, e un altro paio di inquadrature di She-Hulk che un pochino fanno fatica a essere credibili, però davvero onestamente pensavo peggio. Su tutte, Smart Hulk è davvero molto credibile, molto bello. Credo, parlando ancora del rapporto maschio-femmina, credo che aiutino molto i peli. I peli sul corpo di Hulk lo rendono più realistico, mentre Jennifer Walters, essendo liscia a parte i capelli, che comunque sono pure quelli in CGI e sono molto difficili da animare, sembra molto più finta, ecco, perché ha meno imperfezioni di Hulk. Se voi ci fate caso, questo Hulk, quello di Mark Ruffalo, è più realistico rispetto agli Hulk delle precedenti incarnazioni in CGI, proprio perché ha dei difetti, ha dei peli, ha delle imperfezioni, e oltre al fatto che assomiglia all'attore che lo interpreta, e quindi è più realistico. In questo, ancora, Jennifer Walters sembra un pochino, un pochino finta, ecco. Forse dovrebbero aggiungere qualche difettuccio, qualche ruga, però, this is a man world. Devo dire che ho adorato il fatto di rivedere Hulk nel piccolo schermo, Hulk in una serie TV, perché se Hulk lo abbiamo visto in tutte le salse, lo abbiamo visto nei cartoni animati, lo abbiamo visto nel film del 2003, del 2008, e nei film con gli Avengers, è pur vero che in una serie TV live action non lo vediamo dalla serie TV con Lu Ferrigno. E se ci penso, mi ha un po' emozionato, dal punto di vista tecnico, quantomeno, vedere quanto è trascorso, cosa è trascorso nel mezzo da quella serie che è stata iconica insieme alla serie di Batman del 66, è stata iconica la serie dell'incredibile Hulk per la sua popolarità, mi piace vedere dove siamo arrivati, che poi magari siamo peggiorati in altre cose, come magari la qualità della scrittura di alcuni film, o la CGI fatta in fretta e furia, però, quantomeno, mi piace vedere che c'è stato un bel percorso di sdoganamento del media, fumetto, cinefumetto. Ultimo, ma non meno importante, una nota nerd che a me dava fastidio, sono felice che abbiano finalmente spiegato perché Hulk non è Hulk, perché Smart Hulk dovrebbe essere perennemente grosso e verde, lo abbiamo visto invece nella versione Bruce Banner nella scena finale di Shang-Chi, lo spiegano perché ha costruito un dispositivo che lo tiene nello stato Bruce Banner quando lo indossa. Tra l'altro, spiegano molto bene anche il fatto che è un prototipo e viene distrutto nell'incidente, quindi non lo può dare alla cugina Jennifer. In tutte le scene successive Smart Hulk rimane nella condizione Smart Hulk, quindi mi viene da pensare che nella scena iniziale sia stato tenuto Mark Raffalo proprio per spiegare perché lo avevamo visto in quella versione nella scena post-credit di Shang-Chi, quindi sono molto felice che abbiano finalmente aggiustato il tiro e non abbiano creato un buco di trama come hanno fatto magari le altre serie della Marvel. Hanno anche spiegato come mai questo Smart Hulk ha di nuovo il braccio funzionante, scopriamo che è proprio il sangue contaminato di Jennifer Walter a aggiustare il braccio rovinato dallo schiocco di Smart Hulk, quindi mi piace che abbiano anche spiegato questo, mi piace che abbiano curato questa attenzione ai dettagli. Invece la cosa che a me dava fastidio ovvero il fatto che She-Hulk, a differenza di Hulk che dovrebbe essere sempre nella sua condizione di She-Hulk, a differenza di Hulk che si trasforma, in questa versione, in questa serie TV anche lei si trasforma, a me dava fastidio, però lo hanno spiegato molto bene perché c'è tutto un percorso di gestione della rabbia come ho detto all'inizio che narrativamente funziona e quindi va benissimo così. Anche perché siamo in una versione nell'MCU dove adesso è Hulk a essere perennemente nello stato Hulk e quindi è un bel bilanciamento vedere un altro Hulk che invece si trasforma. Poi non so se alla fine di questa stagione sarà perennemente She-Hulk come nei fumetti oppure no fatemelo sapere voi. Poi io sono comunque abbastanza ignorante sulle origini di She-Hulk fumettistiche quindi se magari anche nei fumetti era così all'inizio scrivetemelo qua sotto. Io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto vi dico arrivederci al prossimo video che non so su cosa sarà ma sicuramente settimana prossima ci rivedremo per She-Hulk. Grazie a tutti.